Ottant'anni fa, nel 1938, il regime fascista con la firma di Vittorio Emanuele III emanava le leggi razziali che, come sappiamo, ebbero nei campi di sterminio nazista l'epilogo della più grande tragedia della storia moderna. Ma come accolsero gli italiani queste leggi? Dottor Roberto Israel, consigliere dell'Unione delle Comunità Ebraiche. Si deve andare alla fine del 1400 e del 1500 e questa continua posizione presa nei confronti dell'ebraismo considerate persone addirittura che avevano la coda o addirittura che avevano sei dita nei piedi o qualsiasi altro di queste cose, con tutto quello che sappiamo, quello che è successo, non ha fatto altro che confermare quello che a 400 anni la popolazione ha sempre avuto come un ritornello. E allora ancora oggi comunque di questo non ce ne siamo separati perché dopo la liberazione dei campi di sterminio abbiamo ancora avuto delle situazioni che anche adesso vediamo che c'è l'antisemitismo, l'antigiudaismo che è mascherato sotto altre figure ma è contro l'ebraismo e quindi c'è questa base che non verrà per il momento difficilmente viene eliminata. Quindi in quel momento l'accoglienza è stata molto fredda o indifferente, che è il maggior pericolo che è l'indifferenza quando tu devi affrontare un problema verso un'altra persona. Se tu sei indifferente sei un suo nemico. L'indifferenza è stata altissima in Italia. Durante il convegno organizzato sul tema delle leggi razziali del secolo scorso si è posto l'accento sui pericoli che l'onda lunga di questa cultura contro la dignità della persona e dell'umanità sta provocando oggi. Professoressa Edda Fogarolo, presidente dei Cristiani per Israele. L'onda lunga dopo queste leggi razziali ha avuto una fase tranquilla ma ora ha cambiato faccia. Ora molte nazioni, molte organizzazioni ce l'hanno con Israele, ce l'hanno col sionismo, ce l'hanno con quello che è lo Stato di Israele. Ha cambiato volto. Invece di averla con gli ebrei, come è successo per Italia, per Mussolini, per tutte le altre dittature europee che hanno dato la caccia agli ebrei, ora c'è un rancore verso lo Stato di Israele che si chiama antisionismo. Ma queste cose portano agli stessi risultati del 1938, del 1943, in Italia, del 1939, quello che è accaduto in Polonia. Se in Italia oggi le leggi razziali del 1938 costituiscono un brutto ricordo, in Europa, in particola in Austria, si registra un rigurgito antisemita che preoccupa la popolazione ebraica. La dottoressa Marie Louise Weissenbock, direttrice internazionale dei Cristiani per Israele, ha affermato che le comunità ebraiche austriache si sentono insicure e stanno pensando di emigrare in Israele. Grazie. Grazie.